take it easy, take it slow, we can do it just like before, so take it easy, take it easy ragazzi bentornati in questo unissimo video, io sono Cecchinato e oggi siamo qui in un nuovissimo video su Fortnite News oggi andremo a vedere un paio di leak molto interessanti, prime immagini per il Winterfest o comunque l'evento insomma di inverno, di Natale no, che ovviamente sarà disponibile poi nella prossima stagione poi anche ovviamente novità che sono inerenti alla prossima patch detto questo ragazzi innanzitutto come possiamo vedere ecco lo spray, ne avevo già parlato nel video di ieri ma l'hanno appena dato da ci dentro, ecco questo era lo spray che si poteva ottenere per chi ha già visto il video di ieri o se siete nel canale Telegram sicuramente avrete visto la news che lo hanno reso disponibile ovviamente adesso non è più ottenibile, comunque eccolo qua se potevo ottenere chiaramente dal drop dei Twitch Rivals detto questo iniziamo con tutte le news, mi raccomando prima like se non sei ancora iscritto iscriviti con la campanellina e detto questo partiamo subito guardiamo poi anche il volo dei negozi oggetti, comunque oggi è arrivato un nuovo bando all'armadietto 2.000 V-Bucks, c'è una skin, un deltaplano, schermata, scusate brapp e le motte granchio poi abbiamo nuove skin di Halloween che ritornano tra cui il bundle delle calciatrici versione zombie abbiamo la skin del vampiro che è già uscita nella stagione 6 del capitolo 1 il pesce secco gommoso e poi insomma gli altri articoli che già sappiamo di serie di cone passiamo però adesso a qualche news, vi mostro innanzitutto una curiosità queste sono per il momento chiaramente le skin della DC e Marvel più utilizzate in questa stagione attuale come possiamo vedere ci sono tutti i tipi insomma possibili di Spider-Man ci sono anche ovviamente le skin della DC come Harley Quinn, il Batman che ride e dovrebbe chiamarsi Harley Quinn eccetera, queste sono tutte le skin più utilizzate al momento sia della DC che della Marvel poi già che siamo in tema di collab vi faccio vedere anche questa news che come possiamo vedere secondo alcuni rumor affidabili presto arriverà una collaborazione ragazzi con Doctor Who quindi abbiamo visto come anche fortemente stia collaborando veramente con tantissimi sia brand, artisti insomma, videogiochi, Trustanger Things anche che dovrebbe arrivare poi prossimamente insomma stanno collaborando praticamente con tantissimi e questa sarà una collaborazione che potrebbe arrivare magari entro comunque la fine di questa stagione parlando anche di aggiornamenti ragazzi guardate qua la patch 22.40 finalmente stata diciamo messa nei test di prova quindi vuol dire che sono già avanti, sono già in questa una delle ultime in realtà patch se non l'ultima forse di questa stagione che sappiamo che comunque non durerà tantissimo perché già il 5 dicembre in teoria dovremmo avere l'aggiornamento della nuova stagione numero 5 il 4 si dice che potremmo in teoria avere un evento, speriamo ovviamente però insomma sappiamo che in questo aggiornamento in teoria fino al 22.40 dovremmo avere di aggiornamenti quindi dovrebbe essere un totale insomma di 4 metti 5 aggiornamenti magari uno piccolo giusto per sistemare insomma i vari bug parlando poi già di stagione 5, uno dei eventi più importanti che ovviamente avremo in questa stagione e il Winterfest è l'evento di Natale, d'inverno no? e abbiamo già una prima immagine ufficiale dal sito di Epic che praticamente invita i creatori di contenuti a creare ovviamente delle nuove mappe per ovviamente il Winterfest che poi come se succederà come l'anno scorso poi serviranno no? per fare delle sfide che completandole ci daranno delle ricompense ad esempio l'anno scorso ci avevano date queste ricompense se giocavamo in creativa eccetera quindi molto probabilmente di nuovo avremo queste mappe creative dato che c'è stato già l'annuncio e questa è come possiamo vedere l'immagine ufficiale che potrebbe essere un piccolo teaser come anche un'immagine buttata lì nel senso che abbiamo va bene le tre skin ma di sfondo abbiamo una location tutta quelle montagne potrebbe chi lo sa essere una nuova location a stagione 5 che sarà magari a tema inverno che ci starebbe dato che ne ha stagione 5 poi avremo per l'appunto il Winterfest magari c'è una parte dedicata insomma all'inverno con tutte le montagne piene di neve anche se comunque una parte ce l'abbiamo già quindi magari potrebbero aggiungerla direttamente qui questa location oppure buttata lì a caso chi lo sa avremo modo sicuramente di capirne meglio comunque se guardiamo anche la foto possiamo vedere anche delle spade che potrebbero essere nuove credo poi fatemi sapere a vostra qua sotto nei commenti ma mi sembra di non averle mai viste queste spade e in più c'è anche un bel martello nel senso magari sono delle nuove armi che o potremmo usare nelle creative o chi lo sa magari anche nella battaglia reale anche se lo vedo un po' difficile detto questo fatemi sapere cosa ne pensate in questo primo sguardo e niente ragazzi noi ci vediamo domani ovviamente sempre qui alle ore 16 mi raccomando like e iscrizione bella ciao ciao ciao